In realtà è una variazione di classico mascherata, nel senso che del cancane è rimasta solo la musica e quindi è chiaro che il numero... Guarda non fare così Alessandra perché proprio il numero è fatto per non mettere in condizione proprio rosa di esibirsi No, no, no... Scusami, sei totalmente fuori strada, non puoi dire che questa è una variazione di danza classica perché il 99% dei passi che ci sono in questa coreografia sono tipici del cancane Se poi li esegue una ragazza come Serena che ha tutti i requisiti che deve avere una ballerina sarà una bella cosa da vedere Se invece lo farà un elemento come Rosa non sarà una bella cosa da vedere Guarda Alessandra io non so che cancane hai ballato più nella tua vita e io ne ho ballati tanti e ti assicuro che non ho mai ballato un cancane così Lorella ma forse tu non conosci il cancane, sono tutti i passi del cancane Mi ha appena detto che l'ha ballato Ho capito, allora non ha fatto questi passi che sono del cancane Certo ma infatti perché questa è una variazione di classico che io non avrei mai potuto fare Sì, e tutti i poete che ci sono Non ci sono fete Non ci sono fete Per te andiamo sulla giuria Sì, e tutti i poete che ci sono fete